Anche questa settimana si nota un miglioramento della situazione epidemiologica nel nostro Paese e l'incidenza di casi di Covid-19 scende a 962 per 100.000 abitanti. L'RT anche mostra una tendenza alla diminuzione, siamo ormai intorno a 0,89, quindi ben al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 26,5% e al 13,4%, quindi si osserva una costante, anche se lenta, tendenza alla diminuzione della congestione delle strutture sanitarie. Anche se il numero di infezioni è ancora elevato, la gran parte delle infezioni sono dovute alla variante Omicron, che ormai ha il 99%, si nota quindi una tendenza al miglioramento della situazione epidemiologica che è anche conseguenza del successo della campagna vaccinale e delle misure comportamentali che sarà bene comunque continuare a rispettare.